Buonasera, io sono dei Gamer S6192, voi siete dei Gamerini e oggi siamo arrivati su Brawlhalla Mobile No, senza potere Ho seguito di Sirio 3, 2, 1, brawl! 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 4, 1, brawl! 4, 1, brawl! 4, 1, brawl! 4, 1, brawl! 5, 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 1, brawl! 6, 1, brawl! 6, 1, brawl! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.